Sarebbero circa 10.000 le siringhe raccolte nei parchi di Mestre nel 2015. L'allarme arriva dal dirigente del servizio di tutela del suolo e verde pubblico. Dato allarmante un verso perché ci fa pensare quanto sia intensa la frequentazione appunto in questi parchi a parte di tossicodipendenti. Tra le zone tenute maggiormente sotto controllo, quella del parco albanese. Il parco in assoluto sul quale stiamo lavorando soprattutto tramite attività investigativa è il parco albanese che per la sua morfologia si presta a nascondigli di vario genere ma soprattutto anche a diverse vie di fuga e pertanto questo richiede un impegno in termini di forze, di organico importante. Da quando si è insediata la nuova amministrazione si è mossa subito per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e soprattutto più controllo. Naturalmente abbiamo avviato sin da subito una nuova unità che è quella cinofila appunto antidroga proprio per identificare non tanto poi il consumatore ma intercettare diciamo a monte quelli che sono i cosiddetti spacciatori. Dobbiamo arginare questa ferita, questa emoragia che oramai insomma sanguina da troppo tempo. E' importante avere alcune accortezze nel frequentare i parchi e soprattutto sottolinea d'este fondamentale il contributo dei cittadini che però non devono sostituirsi alle forze dell'ordine. Adottare delle misure prudenziali sì, questo certamente non fa mai male. Teniamo presente che però abbiamo un buon esempio sul nostro territorio, mi permetto di citarlo che è quello di Viva Piraghetto che è costituito appunto da una serie di residenti che si sono messi assieme, hanno preso in mano tra virgolette il parco del Piraghetto e in questo hanno dato corsa una serie di iniziative portando in maniera veramente drastica quello che erano i vari fenomeni che appunto occupavano quel sito e quindi hanno risotto notevolmente problematiche legate ad esempio ai barbaneri piuttosto che ai tossicodipendenti e quant'altro. A oggi diciamo che la situazione è decisamente cambiata in maniera significativa ed è indubbiamente un copione da ripetere anche in altri parchi.